Allora, questa sera abbiamo intenzione a vedere con noi Luca e Cristina, che sono i maestri di Toreon di questo spettacolo che si presentano questa sera, al quale si fanno anche altri due inclusi uno si chiama Ivan e l'altro si chiama Marina, che sono altri due insegnanti da Toreon ti presentano, un spettacolo che si chiama, frete stelle, ognuno di mezzo che si chiama Ivan e l'altro si chiama, frete stelle, ognuno di mezzo io proprio io sono diventato una pace di animale nuovamente, la materna inanimata 5, 2, 3 5, 3 come juni il sotto la figura Mirella è kind Tried to be hard to look like Gary Cooper Cooper, Cooper Tried to stay back and hell There's walk with skits around where I live in their midst We're on the way 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 We're on the way